Benvenuti e benvenuti, questo è lo spazio di YouTube della Galleria Ciaxi e io sono Mirko Gambaro e oggi parleremo di un quadro che abbiamo qui alle mie spalle, molto importante, un quadro come vedete di grandi dimensioni ma è anche grande la storia di questo dipinto, parliamo di un importante personaggio del Veneto, non proprio di Venezia ma a che fare comunque con la pittura veneziana del 5, del 500 intendo ed è anche interessante parlare della storia di questo personaggio, di questo pittore e ovviamente della storia del soggetto che vedremo a breve. Prima di iniziare però voglio ricordarvi di cliccare sulla campanella di YouTube così potrete seguire i nostri approfondimenti con le notifiche e poi se vi piace il video lasciate un mi piace e ci seguirete anche sugli altri social basta poi alla fine del contenuto troverete tutti i link. Tornando a noi il dipinto di cui vi parlerò quest'oggi è il diluvio universale che vedete alle mie spalle e dobbiamo parlare di una bottega importantissima e di uno dei principali esponenti appunto della pittura veneta del 500 ovvero Jacopo da Ponte. Jacopo da Ponte facciamo un piccolo cenno storico e inquadriamo il periodo e il personaggio è molto interessante la sua storia perché viene da una famiglia comunque di pittori sì ma il padre Francesco era un pittore provinciale non considerato proprio importantissimo o comunque di grande rilevo prestigio. In ogni caso il padre Francesco insegnò la pittura a Jacopo e ai suoi fratelli Gianfrancesco e Giambattista e questi nomi si ripeteranno nel tempo infatti anche i figli di Jacopo si chiameranno poi Francesco, Giambattista eccetera e il padre però viene ricordato appunto come Francesco il Vecchio. Si chiamano da Ponte perché la famiglia originariamente non era di Bassano del Grappa era di un paese vicino poi si è avvicinata a Bassano del Grappa e nel 400 gli antenati, l'antenato di Jacopo da Ponte aprì vicino all'attuale Ponte degli Alpini, il Ponte Vecchio di Bassano, una piccola bottega di pelletteria conciava appunto la pelle e pian piano poi questa attività di famiglia si è trasformata appunto in un'attività pittorica con il padre di Jacopo ovvero Francesco il Vecchio. Conosciuto soprattutto per il manierismo veneziano, insomma il manierismo rinascimentale eccetera. Per quanto riguarda Jacopo il principale esponente della famiglia impara, non ci sono documenti che attestano e che documentino i viaggi effettuati da Jacopo per conoscere altre pitture, però in quel periodo del 500 un po' l'internet dell'epoca erano le grafiche e c'erano tantissime grafiche in giro che circolavano dei grandissimi pittori e artisti soprattutto che si trovavano a Venezia come per esempio Dürer, Tiziano, Giorgione eccetera eccetera. Quindi Jacopo ha sicuramente assistito e sicuramente ha studiato su queste grafiche e infatti ci sono molti richiami soprattutto alla pittura di Tiziano. Ma non solo, attenzione, ovviamente la storia di Jacopo è la stricata di grandi successi talmente grandi e tanti che nel 1541, pensate, fu esentato da tutte le tasse. E infatti, caso strano, è una cosa che mi ha fatto molto ridere, cioè sorridere più che altro, è stato il fatto che dopo questa data la sua pittura cambia, diventa più spensierata, più lieta, più tranquilla. Ma chissà perché, insomma, no, vabbè, è una battuta però, possiamo capire la spensieratezza di un imprenditore perché lui era un pittore ma un imprenditore soprattutto che non doveva pagare più le tasse. Ma questo onore gli fu dato perché portò prestigio a Bassano del Grappa in tutto il Veneto. Ora però parliamo del soggetto alle mie spalle, poi entriamo nei particolari e spieghiamo bene di cosa, perché c'è questa attribuzione. Il diruvio universale è un soggetto raccontato da diverse religioni e diverse mitologie nel tempo. Ovviamente noi ci rifacciamo a quella biblica, in cui si data, insomma, questo evento catastrofico tra il XXIV e il XXIII secolo avanti Cristo. Però ci sono un po' di discrepanze perché poi i creazionisti, che ovviamente fomentano questo racconto, fanno risalire questo evento troppo vicino alla creazione che dovrebbe essere a 4000 avanti Cristo. Quindi diciamo che non ci troviamo molto con le date, ma queste sono, diciamo, speculazioni religiose. Noi invece parleremo di quello che è successo dopo, raccontato però con gli occhi di un uomo del Cinquecento, molto legato alla sua terra e ai suoi concittadini. Al termine di questo diluvio si racconta che l'arca di Noè arrivò, perché il racconto del diluvio universale, ovviamente dobbiamo parlare di Noè e dell'arca di Noè, si racconta che l'arca arrivò sul monte Ararat e poi ricominciò la vita. In questo scorcio, in questo quadro che racconta uno scorcio di Bassano, il pittore immagina la scena nella sua città, nella sua Bassano, e racconta come avrebbero reagito i suoi concittadini a un evento catastrofico del genere. E vediamo molta solidarietà in questo dipinto, ma dopo lo andremo a vedere nei dettanti, iniziamo a far vedere, vediamo come le madri aiutano i figli, come gli uomini e donne comuni del paese aiutano gli altri a togliersi ovviamente dall'acqua, a trovare un luogo asciutto dove riposare dopo questo evento così catastrofico. Questo è uno dei gruppi principali. Ma vediamo il diluvio, cosa ha sommerso? Ha sommerso tutto il paese, vediamo dei personaggi galleggiare, delle trave di legno altrettanto, del pentolame, poi guardate l'acqua si perde a vista d'occhio, ecco, vedete, all'orizzonte ha coperto tutta la campagna bassanese e poi si staglia questo cielo plumbeo, quindi anche questo contrasto di colori freddi, perché tutto, la parte alta è tutta basata su colori freddi, mentre la parte bassa è un continuo tono caldo, fatto di rossi di terre e di ocre, che sono pigmenti a base ovviamente di terre, soprattutto i bruni, che tendono ad avere un colore caldo e quindi di creare un'atmosfera, vedete, la parte alta, cielo plumbeo, acqua, quindi desolazione e solitudine che contrasta con la parte calda, dai toni caldi, dove l'essere umano, la vita, reagisce a un evento catastrofico. Ci sono dei gruppi figurativi che ben corrispondono alla pittura proprio di Jacopo da Bassano, per esempio, scusate mi abbasso così da mettermi più vicino ai gruppi, questa figura femminile e anche questa a sinistra si ritrova in diverse opere del Bassano, di Jacopo Bassano, detto così, che lui si chiama Jacopo da Ponte, ma è chiamato poi Jacopo da Bassano proprio in onore della sua città, perché quando i pittori diventavano importanti prendevano il nome della propria città, basti pensare a Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, oppure al Parmigianino e così via. Quindi il Bassano, in questo caso del Bassano ritroviamo questa figura che è tipica di altre opere, i Cagnolini, che sono dipinti molto bene e poiché, perché ho sottolineato il fatto che sono dipinti bene? Perché nel seconda metà del Cinquecento, ma soprattutto nella prima del Seicento, c'erano molte copie delle opere di Bassano, della sua bottega e di lui stesso, perché nella prima metà del Seicento in Veneto, a Venezia, non esistevano pittori importanti capaci di trainare gli altri pittori verso una nuova corrente pittorica, perché dopo la generazione dei vari Giorgione, Tiziano, Veronese e Tintoretto, scompare questa è ovviamente anche di Jacopo da Bassano, scompare una figura abbastanza forte, carismatica dal punto di vista pittorico e quindi i committenti, i collezionisti, tendono a richiedere ai pittori dell'inizio del Seicento di copiare le opere del passato. La corrente autoctona veneziana successiva a quella del Rinascimento Veneziano, appunto, arriverà solo intorno al 1654 con i Tenebrosi, ma questa è un'altra storia e magari se capiterà un dipinto di tale corrente ne parleremo. Ma vedete, ci vuole tanto tempo per arrivare a un'altra corrente autoctona. Altre figure che sono palesemente opera di Jacopo, comunque di collaboratori molto stretti del maestro, sono questa donna al centro della scena e anche, che vediamo anche adesso, poi anche il pentolame è realizzato in maniera veramente egregia, in un modo molto dettagliato e poi anche questo gruppo di figure composto dalla figura maschile che si regge a galla, su un pezzo di legno oppure un sacco che galleggia, e poi questa donna di spalle. Sono proprio tipiche figure della pittura di Jacopo. Ma come facciamo a riconoscere, come facciamo a dire che quest'opera è di Jacopo o della sua bottega piuttosto di un'imitazione secentesca o addirittura di un'imitazione dell'epoca però fiamminga? Perché vi ho detto che a Venezia c'era un mercato dell'arte molto intenso, ma c'erano anche molti mercanti fiamminghi che prendevano le opere di Jacopo, da Bassano e di altri pittori e le rivendevano nelle Fiandre, nell'attuale Belgio e Olanda e c'era grande successo di queste opere e quindi anche i fiamminghi imitavano poi la pittura di Bassano, dei Bassano anzi. Però i dettagli, i piccoli particolari di quest'opera ci fanno protendere a pensare che sia proprio opera della bottega o comunque che anche Jacopo ci sia intervenuto. Perché per esempio gli animali, che ce ne sono diversi in questa scena, ci sono i cagnolini abbiamo detto, ma anche i gatti, i buoi e un cavallo, generalmente nelle copie sono abbozzati, non sono neanche realizzati molto bene. Ad esempio c'è un cagnolino che sta nuotando nell'acqua e c'ha proprio il pelo bagnato, un copista non avrebbe fatto attenzione a questo elemento e quindi l'avrebbe abbozzato in maniera anche un po' sciatta. Invece qui è molto dettagliato, le prospettive sono studiate alla perfezione. I rossi sono talmente intensi che ricordano da vicino le opere che si trovano a Venezia, a Palazzo Ducale o addirittura nei musei civici di Bassano stesso. È un colore troppo intenso e particolare per essere opera di qualche copista o di qualche pittore al di fuori dell'ambito lavorativo di Jacopo. Altra curiosità, questo quadro è composto da ben due tele, non so se si riesce a vedere che c'è una linea, questo non è causato da un restauro o da una distruzione della tela riparata, no. Dovete sapere che nel Cinquecento le tele venivano tessute a macchina con dei telai abbastanza artigianali e questi telai avevano delle forme abbastanza ridotte, quindi le tele che ne uscivano erano di dimensioni appunto limitate. Quindi il pittore per realizzare un quadro così grande doveva cucire letteralmente a mano, molte volte lo faceva lui o lo faceva fare ai suoi assistenti, cuciva più tele assieme e questo è il motivo di questa piccola cunetta che si intravede. Inoltre questo quadro è interessante perché accompagnato, vedete, è vestito da una cornice elegantissima che però è posteriore al Cinquecento, ci troviamo all'inizio dell'Ottocento, una cornice neoclassica e la riconosciamo dalle foglie d'acanto che sono poste sui vari angoli di questa cornice appunto. Elegantissima e ricca perché poi è tutta rivestita a foglia oro. È veramente intenso, quindi abbiamo visto un quadro che narra un evento raccontato dalla Bibbia ma visto con gli occhi di un uomo del Cinquecento. Abbiamo visto perché questo quadro è attribuibile a quella persona e non ad altri o comunque alla sua ristretta bottega e inoltre abbiamo visto come nei secoli sia stata anche valorizzata perché un proprietario antico ha voluto incorniciarlo con qualcosa di veramente importante. Se il video vi è piaciuto mettete, lasciate un mi piace, mi raccomando la campanella così da poter essere sempre aggiornati sui nostri approfondimenti, poi per altri approfondimenti o per altre novità o contenuti esclusivi ci potete seguire sui nostri social, Instagram, Facebook, Twitch e lo stesso ovviamente YouTube e poi se volete vedere le opere che abbiamo in galleria basta andare sul nostro sito www.chuxigallery.com e troverete tutto. Io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima!